Una routine per il Tribunale, la quinta volta dall'inizio dell'anno, la seconda dalla ripresa dei processi dopo la pausa estiva. L'allarme bomba al Tribunale è diventato ormai poco più di una pratica da sbrigare in pochi minuti. Questa mattina per la prima volta è scattato l'allarme generale, un ordine di evacuazione vero e proprio, con una sirena antincendio. Una coincidenza che si è sommata alla telefonata che parlava anche di altre due bombe in città e che ha costretto le forze dell'ordine a vederci chiaro. Per questa ragione l'intera mattinata è praticamente andata in fumo. Ho i miei documenti dentro, il giudice è sparito, il pubblico ministero non so dove è andato. Sicuramente di suidi, problemi. Per questa ragione il Tribunale è stato bloccato praticamente per l'intera mattinata. Unità cinofile e artificieri sono arrivati da Padova ed hanno controllato ogni angolo, ma intanto i minuti sono passati. Si aumenta il lavoro purtroppo. Alle 11 che siamo qui non si sa niente. Per cancellieri e avvocati una mattinata persa con il lavoro che si accumula. Per i detenuti in attesa di processo con l'auspicio di uscire di galera, una speranza che slitta di ore. Se non si farà il processo solo stamattina rimarrà recluso in canzio da Santa Bona. Solo dopo due ore, quando i cani hanno verificato che non c'era nulla di esplosivo dentro il Tribunale, l'emergenza è cessata. Sono state effettuate le operazioni di bonifica da parte del nucleo artificieri dei cinofili e non è stato trovato nessun tipo di ordine. Terminata la bonifica del Tribunale è stato controllato ogni angolo delle due sedi dell'Istituto Giorgi, via Terraglio e via Medaglie d'Oro. Praticamente era durante la ricreazione, sono arrivate due auto della pattuglia e ci hanno mandati tutti via all'esterno. Mi ha telefonato mia figlia. E cosa le ha detto? Niente, allarme, bomba e basta. Ho chiamato anche mio figlio col cellulare che era fuori col cellulare, era agitato anche lui, lui è in prima e quindi è un po' magari un'esperienza, quindi era un po' sconvolto. Solo alle 16 l'emergenza è definitivamente cessata.